Mi piace cercare di calpestare l'insolenza dei potenti con quello che riesco a fare. I soprusi, le maldicenze, il pettegolezzo, tutte queste cose che creano solo negatività attorno a noi. Mi piace cercare di debellarle. Cerco di farlo con i miei spettacoli, con il mio modo di essere. Abbiamo creato una specie di fiabone per voi adulti, non per i bambini, per voi adulti. Come se noi volessimo farvi tornare ai tre anni, girate la pagina e c'è l'avventura, che ne so, dei mulini a vento, c'è l'avventura dei saraceni, c'è l'avventura della grotta di Montesinos, del Cavaliere degli Specchi. E ritornate ad essere bambini con l'entusiasmo che chiunque ha avuto a tre anni. Perché anche il peggiore efferato criminale ha avuto tre anni ed era libero. Viva la libertà. Ciao. Non so se è veramente innovativo. Sì, il fatto che viene interpretato da una donna, ma penso che nessuno uscirà dalla sala dicendo ma come mai una donna per fare sancio? Veramente scommetto che non sarà successo, perché io veramente mi sento sancio. E dal momento in cui noi attori ci crediamo, il pubblico ci crede. All'inizio pensavo di fare qualcosa che sia una trasformazione fisica, anche, non so, bendare il seno, eccetera. Poi dopo mi sentivo così sancio che io ci credevo e non ho fatto niente.